Musica Non chiede la seconda, arriva dalla Toscana perché il primo è stato Ciardi, il secondo Paperini Quindi insomma tanta Toscana nel trofeo Toyota Invece arrivano dalle Valli dell'Ossola Gabriel Di Pietro e Andrea Dressi numero 58 Sulle fiancate di questa Peugeot 208 E allora benvenuti ragazzi, anche per voi immagino una gara test Sì una gara test per noi, sono cambiati i nostri programmi di quest'anno Per cui siamo qua come gara test, proveremo praticamente per la prima volta la 208 Rally 4 Vedremo com'è, qua a livello alto ci sono tanti locali che conoscono la gara, vanno forte Poi non è tutto nuovo per cui vedremo cosa riusciremo a fare Bene bene, buon divertimento, buona gara, buon test A uno dei piloti più talentuosi a livello nazionale Uno dei giovanissimi piloti che si sta mettendo in luce Ora lo fa con un'avventura della PR2 Sport A un'avventura della P3 Sport Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.